Il numero di casi di Covid-19 nel nostro Paese è salito a 650 per 100.000 abitanti, anche se questa settimana l'RT sembra essere leggermente diminuito da 1,7 a 1,4. Si trova comunque sia al di sopra di 1 e questo rappresenta solo un primo segnale di una diminuzione della trasmissione che potrebbe essere attribuita ai provvedimenti che sono stati signora presi. Purtroppo però il virus circola in tutto il Paese e si verifica un preoccupante aumento sia dei ricoveri ospedalieri che dei ricoveri in terapia intensiva. Questo chiaramente giustifica ulteriori misure restrittive che devono essere prese soprattutto nelle regioni che sono a rischio più elevato e naturalmente induce la popolazione a comportamenti prudenti.